oggi faccio vedere i miei occhiali per la bicicletta e ci sono tanti colori per la blabbermix e per la blabbermix iscrivetevi qua su Instagram attivate la campanella e mettete il mi piace a questo video ciao raga mi sei video raga no ciao mi sei video allora raga oggi faccio vedere le mie occhiali abbiamo questi ragione sono le blabbermix si ci mette poi abbiamo quelli nere poi le blocchiali portanasso portanasso tutto sono le cale e bbc io l'ho comprato 20 euro ma abbiamo questa coppia occhiale queste coppia occhiale questi conti con miglior occhiali ma abbiamo questa questa si chiama porta occhiale pure ciao raga